Ciao Carlo, come stai? Caro sacerdoti, come l'ha? Permetti, ti presento Rosattini. Piacere. Ciao, ciao Vito. Gravattini e Rosattini. Molto rientro. Caro sacerdoti. Stranamente puntuale. È proprio il caso di dire stranamente, perché Dapporto è uno degli uomini meno puntuali che io conosca, perciò è strano. Ma quando si tratta del suo lavoro, chissà che cosa per lui è una gioia. Se lo dice Ravattini, a proposito, da quanti anni è con Dapporto? Dieci anni, credo. Quindi è in grado di giudicare? Abbastanza. Adesso affronto il corpo a corpo. Prego. Vuole che ci dica una cosa? Cosa? Buon lavoro. Grazie. Ciao Verlè. Stai bene alla mia invitazione? Bravo. Ciao. Allora? Lei sa già di che si tratta? Sì. Noi vorremmo presentare un album della sua vita. Ho capito, le tappe della mia carriera. Esatto. Innanzitutto, per i telespettatori che non lo sapessero, cominceremo col dire che lei è nato... Tra i fiori di Sanremo. Mi rivedo da un ragazzino, là, in mezzo a quei giardini. Ed era un bravo ragazzino? Beh, insomma. Magari non aveva voglia di studiare? Beh, sì e no, insomma. Sarà bene che prenda qualche appunto. Ricorda il suo primo lavoro? Sì, lo ricordo. Era una professione fatta di finezza. Sappiamo pure, caro D'Apporto, che lei ha incominciato col fare il garzone di un fabbro. E, se ben ricordiamo, non durò molto perché ben presto passò in una farmacia. Ma erano lavori troppo impegnativi quelli. Meglio, molto meglio, fare il barman. Con tutte quelle bottiglie, col whisky e con tante belle clienti, c'era proprio da divertirsi. Ci è stato raccontato, però, che lei aveva preso l'abitudine di assaggiare abbondantemente, inosservato, i cuori e i vini del bar. Ma tale abitudine non era gradita dal proprietario del bar stesso, che un giorno vide... Di conseguenza fui estromesso. Estromesso? Beh, licenziato, insomma. Non d'apporto. Sì? Scusi, c'è il maestro Frustacci che chiede di lei. Ah, lo faccio passare. Si fa anche annunciare. Novellino. Maestro. Ciao, carletto. Ciao. Ciao. Stiamo aspettando da mezz'ora. Se sapessi da quanto tempo sto aspettando io. Eri dietro alla tenda. Sì, sì. E poi portate i pezzi? Sì, due pezzi, della rivista Baracca e Burattino. Ah, del nostro grande spettacolo. L'impresario è lui. Eh, sì. È veramente una grande rivista, venite a vederla, veramente passarete una serata deliziosa. Un po' di pubblicità, no? Dimmi una cosa, carletto, da che punto della tua carriera ti piacerebbe cominciare? Beh, da quale punto? Dall'inizio, dai primi passi, da quando cantavo i tanghi argentini. Nei tabarin, nelle sali da bar. E pensare che da dieci anni, fuori mi lucura. Che lleguei hasta la traicione, per la sua hermosura. Che sto io su un cacchaco, vuoi mi dusamente dura, donde io perdi l'onore. Che ci flau, por su belleza, mi chité il pane alla vieja, mi servin' i peciador. Che mi chiedessi in un amico, che vivi de mala fe. Che mi chiedessi in un amico, che mi chiedessi in un amico, che mi chiedessi in un amico. Sogni e calaveria, in un arrecate in pace, cruel come il di oggi. Mire, se non è pa' suicidarsi, è pure se caccivace, sia la che son. Fiera venganza, la del tempo, che hace unir desecho lo che a un amore. A este encuentro me ha hecho tanto mal, che se lo penso mal, termina envenenado. A esta noche me ha hecho bien, me amo bien, me amo, para no pensarlo. Un signor argentino mi ha chiesto in che lingua ha cantato quel tango. In lingua svizzera, con una puntina d'amarico. Poco senso, no? Certo. E il tuo debutto in marietà, dove lo lasci? Eh sì, il primo salto lo fece appunto da quello stesso nightclub di Riccione. Ricordo, fu una sera che... Ah, lei, guardi lì in fondo, al tavolo numero 7, quella signora così elegante. È la famosa subrette Vivian Daris. No. Faccia qualche cosa. No, non oso. Quella imitazione di ieri sera, potrebbe scritturarla. Lì, alle Porto Fortuna, io. Ma non oso. Coraggio, io. Ah, io sapevo. Che appello. Beh, io proverò. Signori, buonasera. Come ho promesso ieri, questa sera presenterò a questi simpaticissimi frequentatori assidi del nostro magnifico locale una mia imitazione, una creazione mia. L'imitazione dei famosi comic americani Stan Laurel e Oliver Hardy. Non fate caso al cappello, non è del tutto nuovo. Olio? Paola, io t'ascolterò con la prossima calma. Olio, ascolta una cosa. Sai dirmi tu che fuma più di un turco? Chi fuma più di un turco? Sono due tucchi. Niente affatto, Olio. Chi fuma più di un turco è un cinese. Un cinese? Perché muoio un cinese? Perché è un fumatore doppio? Senti una cosa, Olio. Paola, Paola, bagolone. Senti, sai dirmi tu qual è il male che si sente di più? Il male che si sente di più. Quale sarebbe? E dillo tu, sapientone. Il male che si sente di più è il male di denti. Oh, per quale motivo è il male di denti? Perché è il più vicino alle orecchie? Quella sera stessa, Vivien Daris, mi iscritturò a 30 lire al giorno. Vivien Daris? Sì. C'ero stato due anni prima. Sì? Sì, sì. Come direttore d'orchestra? No, come macchinista. Come direttore d'orchestra, per forza. E poi cominciaste con la rivista? Sì, cominciai con un grande spettacolo. Sì. Con due grandi nomi della varietà. Con Anna Fugie e Renetta Noa. Ah, sì. Va benissimo. Proprio quello che ci voleva per mettere in piedi il suo album personale. Sì, ma qui non si tratta altro che dei primi passi della mia carriera. A proposito, Carletto, ho telefonato a Bracchi e Danza. Sì, saranno qui a momenti. E spero che per te costituiranno un bel ricordo. Oh, sì. Perché anche loro ti hanno scritto due o tre belle riviste, no? Molte cose, molte riviste che mi hanno dato tante soddisfazioni. Sì, ma vedi, oltre a quelle riviste c'è una data che io non posso dimenticare. L'Avanspettacolo. Sì, l'Avanspettacolo umile, rionale, che mi forniva, diciamo, le prime lirette. Oddio, non ti nascondo che in quell'epoca i bei ristoranti li vedevo solo dal di fuori. Ricordo che andavo a consumare dei pasti modestissimi in una latteria. In una latteria che... L'altra sera, passeggiando per la via, ripensavo ai tristi giorni del passato. Rivedevo una vecchia latteria che il mio cuore non ha mai dimenticato. L'ho cercata, ma non l'ho più ritrovata. Che tristezza. Nostalgia di quei dì. A qualcuno dei passanti ho domandato, solo un vecchio mi ha risposto. Era lì. Rivedo ancora quei tavoli di marmo, le sedie, le pareti fredde e bianche... E tutte quelle facce tristi e stanche, l'immagine di quei frequentatori. La lista delle bibite gelate esposta nella squallida vetrina pareva dire... È inverno, padroncina, ho anch'io diritto un po' di riposare. Al solito mio tavolo sedevo. Una vecchietta a me di fronte stava. Io la guardavo e poi le sorridevo e lei con pochi denti s'arrangiava. Davanti a un lungo e grigio caffelatte. I gomiti appoggiati al tavolino. La tazza che fumava. La vista ma pannava. E l'anima sognava quel che non sogna più. A un tavolo di quella latteria un tal che non avevo mai veduto... Comprese tutta la tristezza mia e senza parlare volle darmi aiuto. L'attendo ancora dopo tanti anni per dirgli... Vecchio mio, dove sei stato? Le dieci lire che tu mi hai prestato le ho sempre conservate qui. Sul cuore. Ricordo le brioche a mezza lira che certe sere io trovavo care. Un giorno me ne andai senza pagare. E chi l'ha provato mi potrà capire. Rivedo tale quale come allora per terra quella chiara segatura. Sul banco la reclam del vermut cora parea dicesse. Che mi guardi a fare? Al solito mio tavolo sedevo. Sull'orlo dei bicchieri mi fissavo. Un dì qualcun si accorse che piangevo. E mi scusai dicendo che sognavo. Davanti a un lungo e grigio caffè latte. I gomiti appoggiati al tavolino. La tazza che fumava. La vista ma pannava. E l'anima sperava quel che non spera più. In quella latteria di piazza beccaria. Che adesso poverina. Non c'è più. La latteria caro signore. Tecchi il nostro camoletto nazionale. Bravo e bello. Vedi che si è preso. C'è il tuo gioco personale. Sono felice proprio. Tanto una cosa che ci voleva. Senti una cosa. Vi hanno spiegato bene di che si tratta. Sì. Voi dovete testimoniare. Siamo stati i primi a credere in te. Vi ringrazio. Senti una cosa. Dunque la prima rivista che feci con la Wanda Osiris fu. Sorgiamo insieme di delle mangini. Di delle mangini. La seconda quale. Dopodiché capocabana. Che succede a capocabana vostra? A capocabana la donna regina. La donna sovrana. La donna sovrana. Ti ricordi la Wanda quando usciva? No, da quella scala ti parlerò d'amore e sfoglierò una rosa sulla tua bocca ansiosa. Dopodiché allora il grande salto. L'isola delle sirene. L'isola delle sirene. L'isola delle sirene. Ti ricordi gli incassi? L'isola delle sirene. L'avete guadagnato? Eh allora. Non abbiamo anche speso ormai. Sì, l'isola delle sirene. E fu in quella rivista appunto che cantai quella canzoncina con la quale io sanremese feci la dichiarazione alla vostra bella e generosa Milano. E puoi dire la nostra perché tu sei quasi milanese. Alla mia ormai. Senti milanese? Tant'è vero, questo era il titolo della canzone. Sì. Ve la accompagni? No. Questa volta io vorrei sentirla, anzi vogliamo sentirla. E chi la accompagna? Te la farò accompagnare dal maestro Frustaccio. Pasquale Frustaccio? Pasquale Frustaccio. Dal mio attuale maestro. Eh, la suonerà certamente bene perché sai, è napoletano ma c'è la madonnina anche nel cuore A Roma vive in per la pasta suita, Bologna tortellini con ragù, Palermo per gli aranci e per la frutta, Milano per gli affari e nulla più. Che è proprio niente di che bella gente, se compro in conto un gesto, conto un niente. O Milano, su una selsia, mi me senti a casa mia, se me cascia e m'ingavia, mi deghi, me me vivù, a me piace per fin la neve. E l'inverno con la fioca, sesto monsa la bicocca, anche al cinema canto, ve ripeti su un foresto, a me piace la mia città, ma quando vengo in Lombardia, a me par deve saccare. L'accento meneghino, l'el carattere ambrosiano, mi me senti cittadino, cittadino de' Milano. Io mi ricordo ancora dei primi passi, al Plinius, al Fussati, al Triestino, ma poi d'un tratto vennero i successi, se vedi che l'era scritto in del destino. In tanti propri tanti gli italiani, chiedeven la fortuna a sto Milano, ma cusa la gasta Milano d'estraordinario. L'aghe il parco, un bel castello, l'aghe il don, la madunina, chi ha pregala la mattina, tanti grassi la te fa. E' una bella galleria, i bastiun con la sua fera, gente semplice e sincera, che che piace la vorrà. Io che sono di Sanremo, e me piace la mia città, quando vengo in Lombardia, a me par deve saccare. L'accento meneghino, l'elcaratere ambrosiano, mi me senti cittadino, cittadino de' Milano. E fu così che diventasti l'idolo delle donne. L'idolo delle donne, beh non prendiamo troppo la lettera da tutto questo. No, prendiamolo sia la lettera, anzi a proposito, da allora cominciano ad arrivare pacchi di lettere. Ah, lettere, si, da tutte le parti del mondo. Ammiratori, ammiratori. Ah, quante, fu lì dove cominciai la collezione dei francoborni. Non ho fu lì che l'acqua è una, anzi la tua più grande interpretazione, lì hai creato un grandissimo personaggio. Ah, già, sì sì, ricordo. Sono io che col monocolo nell'occhio m'invado tra la folla ultramondana. Le donne osa giocare tutte al mio cocchio, con questa mia guardata ardita e strana, ma se non ambai occhi non le guardo. E le voilà son qua. Sono il magliardo. Esco alla notte, resta letto il giorno, mi piacciono le vische e i tabarini. Sono il bel tenebroso che va intorno sciattico, senza sogni né quattrini. In vise i creditorri do beffardo. Son qua. Sono il magliardo. Han visto la mia tuba? Che cappello. La cocaina al buio ebbia compagna. Le donne che dicevano sei bello, le trattei come coppe di champagne. Le bevvio, le spezzai senza riguardo e voilà son qua. Sono il magliardo. Gino Franzi, Gino Franzi mi diede la sua voce. Mi diede la sua figura, Emilio Ghione. Presi a capozzi la guardata troce. Ed a Bonardi il fracco alla gastone. A Valentino poi dell'occhio il dardo e le voilà son qua. Sono il magliardo. Dov'è, dov'è il salotto blu? Dov'è lo scimmi, i pigiama russa, le basette? Dov'è son gli abajur? Dov'è son, dimmi, le donne sul cliché, mi mi bluette? Fissa dicevano quegli occhi di leopardo, parlavano di me, né? Oui, de le maillard. Ma no, quello tombe. La caren, la caren, mi stanghette. Furono mie amanti. Un beguin per Makowska ho pur avuto. I miei amori sono stati tanti. A inventariarli non mi è mai piaciuto. Ora dirveli tutti non ma tardi, le voilà bonsoir. Non c'è troppo tardi, j'avais a manger. Sono il magliardo. Senti, a proposito di successi di carriera, qui tu ci devi dire una cosa. Dimmi. Qual è il personaggio che in questi ultimi anni ti interessa di più, ti piace di più di recitare? È quello che piace anche a te. Eh, scommetti. È quello del dottore piemontese, del cameriere piemontese, del prestigiatore. Prestigiatore, è un amore, è divertentissimo. Eh, ma quello che ti piace di più, sono convinto che è il libraio. Il libraio, bello, questo è riuscito. Edizione straordinaria, le ultime notizie. Edizione straordinaria. Sono arrivati gli ultimi libri di Guido. Sono arrivati gli ultimi libri di Guido. Da Verona. Sono arrivati freschi gli ultimi libri di Guido. Da Verona. Come va, Fiorino? Eh, come va, Agostino? Eh, siamo qua. Ah, caro amico. Signore Nellopollido. Eccolo qua, è quella sua signorinella. Nellopollido, dolce dall'impettoia al quinto piano. La più bella canzone del mondo. Ma va. Poi è bella perché è l'unica che parla dei libri usati. Ma no, sui segni. Ce la canto? Eh, la canti, la canto. Eh, la canti. Il mio bambino, sfogliando il vecchio libro del latino, ha trovato un duino. Una panse. No, una di un fonte. È esagerato. Ha trovato un conto del ristorante di tanti anni fa. No, no. Fai vedere, fai vedere. Guarda un po', ne volta cosa costava la life. Eh? Cosa costava la life? La vita, lì fe. Guarda un po'. Coperta 0,05. Una coperta. Eh. Va a comprare un fassoletto oggi o vedi che ora è? Ministro, ministro, 0,85. Cosa c'è quello lì? Una minestra. Ah, lo stesso. Pietà. Sa, pietà. Sa, 0,80. Una riga. Eh? Una riga. Sotto il conto. Una riga. Tot, tot. I, 1,70. Cosa c'è scritto lì? Tot. I, 1,70. Ma che tot lì? È cinese. Totale. Tot? Totale. Mancano le ale? Eh, cosa poi vogliamo. Pensa un po', un uomo, una volta che cosa ti faceva con 1,70. Una volta? Ma me lo dice lei? Oggi uno cosa fa con 1,70? Mo? Se gioco all'otto può fare anche no. Solo quello può fare. E come va, come va, come va, eh? Se ne vendono libri? Eh? Dico, se ne vendono libri? Vuole sfottere. Eh, ma con lei non si può mai parlare. No, no, con me si può parlare. Io non faccio il manovratore. Con il sottoscritto si può parlare. Col manovratore no, con me? Sì, sì, caro signor, caro signore. Vabbè, vabbè, dico, ma 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 qui siamo in piazza, no? Potrò parlare anch'io, no? E allora basta! Che roba per tanto, basta, basta, basta. Operativo. Come vuole. Operativo. Sa cosa ci dico? Che lei è l'invenditore di chiacchiere, di fandonie e di donne a un costume da bagno in prima pagina. Si vergogni, nigriero. Ma faccio piacere, ma si vergogni lei. Lei ci deve vergognare con quelle porcherie di libri li che vende. Quali? Eh, senza poi contare quelle che vende i sottobanco, eh. Io vendo i libri i sottobanco. Vai, vai che lo sai. Quali? Eh, lo sai, sì. Quali? Eh, il porno. Hai visto che lo sai? Il porno. Vuole ne querelo? Vuole ne querelo? Ma mi faccia un piacere. Vuole ne querelo? Ma proprio a me lei vuole fare una querela, a me. Io che due mesi fa le ho salvato la vita, qui non si ricorda più. Lei ha salvato la vita. Ma non ce lo ricorda, guarda poverino, due mesi fa qui le ho salvato la vita. Me lo ricordo. Oh, bravo. Sì, me lo ricordo. Oh, ecco. Me lo ricordo. Me lo ricordo. Quel vigliocco, no. Quell'assassino, quel delinquente, se no. Oh, un vigliocco. È un tipo suddo, no. No, proprio. Lasarone. Con quella faccia. Oh, che schifo. Tutto tagliato. Gente che non sa farsi la barba. Proprio. Parmi quello lì, parmi quello lì, era ces. Eh? Parmi quello lì era ces. Parmi, ces. Un po' parmi. Parmi era ces. Ces. E chi è ces? Ces. Ces al bandito, no? No, non capisse niente, io non so, non so, non capisse nulla. V'ha detto, voglio raccontarla a tutti. No, no, no. Non lo voglio raccontare il suo atto d'eroismo perché bisogna... Vieni, vieni davanti alle scherze. Ma no, che non è lo stesso. Era, ce l'ha raccontato a tutta la gente. Era l'alba del 15 maggio. Mi sbaglio. No, no, che è vero. Se mi sbaglio mi correga, so che io non sono mica uno che sta tanto lì. Era l'alba del 15 maggio. Io mi trovavo lì vicino al mio negozietto dell'ambulatorio librario, così. Ero lì, quando a te ti è entrato, tu ti è entrato, te arriva in tisio lì, arriva questo tisio, mi guarda un po' in faccia, poi fa, mi dia la pelle. A me, mi dia la pelle. Io subito faccio finta di non capire, e quella lì riattacca. Ci ho detto di darmi la pelle. Mi avesse chiesto la borsa o la vita. Ma la pelle. Fortuna che lì c'era sangue romagnolo, che ha tradimento, vieni qua. C'era sangue romagnolo che ha tradimento e ci ha piazzato in testa quel mattone, come lei, a via col vento. A quello lì è scappato gridando. Mi moassano, porco cucò, mi moassano, mi moassano. E ne l'ho più visto. Ma lo sai che mi viene un dubbio? Un dubbio? Sì, che forse quello lì voleva la pelle di Curzio Malaparte. Ma non quel periodo Curzio Malaparte raccopre, poi vuoi mettere questa pelle, senta un po'. Alisabetta Ardennes, senta un po'. Ardennes, sì. E la delinquente che c'è oggi giorno in circolazione. È vero, è vero. Se ci racconta un fatto di tre mesi in fa, se ce lo conto, no, non ce ne voglio dire. Ma me lo dica, ci siamo qua, me lo dica. Ce lo conto? Sì. C'ha tempo? Eh, come no? Guardi, io ci dico le cose come stanno. Io tre mesi in fa ci avevo un socio, guardi. Io ci avevo un socio, bene, insomma. Tutti avevano un socio, in un certo momento della vita ci avevano un socio. Ho capito, avevo un socio. Avevo questo socio, modestamente, così. Un giorno eravamo io e il mio socio qui attaccati al negozio, così. E da un tratto siamo lì, t'arriva un tizio, arriva un tizio, così, sa come lì? Sì, sì, sì. Con una faccia così, ci guarda un po' entrambi sul volto, ci guarda nel volto tutti e due. Sì, sì, sì. Questo tizio e poi gli fa i miserabili. E là. A voi. Doveva vedere il veicolo. Eh. Sembrava un alicottero. Pof. Botte. Da orbi. Da miupi. Ah, che bello. E come è andata a finire? Eh, come è finita, come è finita. Ho perso il socio. Eh, povera. Eh, che è? È molto? T'ha presa una carrupa in testa qui. Povera. Eh, e adesso, poverino dai numeri. Eh, sfido io. È impiegato, è impiegato lì al banco del lotto. Vabbè, sta lì. Due numero uno. E numero un altro, quando viene fuori una minestra a un bicchiere di vino e taccaci in mezzo a Toscano, quello è a posto. Quando uno lavora, la minestra viene fuori, io la rispetto perché quello è un uomo e non è un parasito che fa schifo alla società e ha tutti i suoi simili. Io, sarà un difetto, io quando uno lavora, io non so, non so. Quando uno è onesto che dice, cosa fai, io lavoro. Sì, sì. Cosa fai, lavora nella fognatura. Io anche nella fognatura, io la rispetto perché lei lavora. Sì, sì. E se guadagna il pane, anche se la fognatura manda dolori a lacri, il pane è profumato perché ha il sudore dell'uomo che io rispetto. Sì, sì, c'è la ragione. Quando un uomo lavora, io ne so, quando un uomo, ricordati, quando un uomo lavora, a me mi viene in mente, mio padre buonanimo, mi ricorda che un giorno mi ha chiamato così, mi fa, Gostino vieni qua, Gostino vieni qua. Gostino? Lui aveva paura di pungermi, mi chiamava Gostino. Eh, è un uomo così. Vieni qua, ricordati, ricordati, Gostino, lavora, lavora, si è in esto, si è in esto, si è in esto, ad un giorno c'avrai fortuna. E io? Ah, lei è piazzata. Piazzata, eh, sì, sì, quando un uomo lavora, quando un uomo lavora, può andare all'estero con la fronte alta, così, e direi che esso è un lavoratore. Ha va all'estero, ti diceva nel cappello, ha va all'estero, al giorno, quel popolo che lavora, potrà essere scritta in dell'ONU. Eh, ma che è dopo lavoro l'ONU? Un dell'ONU, tanto uno è lavoro, è segno, io ho bisogno. Eh, ha fatto una bella scoperta. Se incontro quello che l'ha un 28, mi fa due occhi così. Per scrivere quest'album personale di Carlo D'Apporto, attore, abbiamo ricostruito le tappe della sua carriera. Per conoscere Carlo D'Apporto, uomo, ci siamo avvicinati ai suoi collaboratori. Ora il nostro lavoro è finito, e in fondo crediamo che il nostro giudizio sia condiviso da voi. Noi lo abbiamo tradotto in immagini, voi lo esprimete ogni sera con i vostri applausi. Come avviene in questi giorni con lo sketch di Sadici, nella sua ultima rivista. Mi piacciono i disegni di Picasso, del pollo mangio solamente l'osso. Mi piace tanto ripassar da fesso, mi piace della radio la pubblicità. Se tu mi chiedi i soldi, son contento, e se me li ridai, mi secca tanto. Soltanto se sto bene, mi lamento, io nella febbre trovo la felicità. Io ho sorrito, se mi taglio, son felice quando sbaglio, siamo matte, proprio matte da legare. Io se do una capocciata, mi ci faccio una risata. Sono gemo, sono gemo, sono qua. La Pampanini non mi piace affatto, mi dà fastidio specialmente il petto. Noi per le tasse abbiamo tale amretto che si alle sole a denunciare la verità. Noi siamo i risultati, si cambiamo, si cambia, 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 si cambia. Il mostro del Tamige mio scolaro Io godo se mi fanno un occhio nero Mangiare cotolette di somaro E il sogno che mi piace tanto accarezzò Io mi affeziono sola a chi mi frusta Mi piace tanto perdere a canasta La frutta specialmente quando è qua sta La trovo veramente una specialità E il rumore di una lambretta M'entusiasma mi diletta Sono scemo, sono scemo, niente fa Ah, mi piace l'Aragosta Ma sbattito in sulle testa Sono pazzo, sono pazzo Io sogno un posticino all'ospedale Ai baci preferisco le querele Abbiamo la narice sensuale Per respirare tutta la brutalità Noi siamo gli unici, salici, salici Candiamo soli, più soli, più salici Candiamo soli, più salici, candiamo soli Candiamo soli, più salici, più salici Noi siamo salici della città Noi siamo gli unici, salici, salici Candiamo soli, più salici, candiamo soli, più salici Candiamo soli, più salici, candiamo soli, dei casi simpatici Noi siamo salici della città Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti